Salotto letterario di Cala Sanremo, Cala Sanremo Writers, devo dire che oggi ospito una persona fantastica, un autore, un personaggio che io amo tantissimo perché abbiamo condiviso alcuni giorni a Sanremo con noi Marco Celada. Marco come stai? Eccomi, tutto bene, buon 2024 e anche quest'anno Siaremo a Sanremo con grande piacere perché appunto c'è anche la novità del mio libro. Marco che conosciamo molto bene, Perto è un scienziato dell'astrologia come siamo soliti definirlo, però tu sei stato selezionato quest'anno per partecipare a Cala Sanremo Writers con un libro che è stato selezionato tra tantissimi testi in Italia. Il libro si intitola Compleanno di rivoluzione come l'astrologia può migliorarti la vita. Io conosco le tue abilità, le tue abilità Marco, però ci vuoi spiegare in poche parole il tuo libro di cosa parla? Beh guarda, è un libro che unisce un po' la mia formazione scientifica, come anticipato io sono un fisico cibernetico, che ha sempre avuto la passione per le stelle, quindi io mi occupo infatti di astrologia da 30 anni e un uomo di comunicazione mi chiama un giorno scienziato dello zeodiaco. Il libro Compleanno di rivoluzione spiega esattamente come ogni anno fare il compleanno migliore, cioè si riferisce praticamente a questo discorso astrologico al movimento che il sole fa ogni anno quando torna alla stessa posizione zodiacale della nascita, quindi in pratica al momento del compleanno. Se noi trascorriamo il nostro compleanno nel posto giusto, questo è il punto più favorevole quindi a livello di energie, possiamo migliorare le sorti dell'anno, quindi trascorre del compleanno in una città o in un'altra, in un'azione o in un'altra, che io studio, noi possiamo avere le energie migliori per gestire meglio la nostra vita annuale. Io stesso da 30 anni, ogni anno trascorro il mio compleanno in un punto del mondo che calcolo e mando centinaia di persone all'anno a fare il compleanno. Marco fammi capire, quest'anno per esempio Marco Celada, dov'è festeggiato il compleanno? Il prossimo, io lo faccio a ottobre il compleanno, ovviamente con il dovuto anticipo, mi sto studiando il compleanno, se lo sto ancora studiando, però probabilmente andrò in Irlanda, quindi ho due opzioni diciamo, una forse meglio dell'altra, ma devo aspettare visto che siamo ancora lontani dal compleanno, insomma vedo un po' come evolve la situazione astrologica. La situazione astrologica, ecco io con questo discorso chiaramente che è scientifico, però alla fine finisce anche essere un momento di piacere, perché il compleanno, ripeto, l'ultimo ad esempio, io ho girato il mondo con questa storia del compleanno, però l'ultimo l'ho fatto in Italia, l'ho fatto a Roma, quindi può anche capitare che il posto migliore guardando la mappa geografica sia anche dove uno abita o vicino a dove uno abita. E questo quindi è il punto fondamentale del discorso del compleanno, perché è il momento in cui noi esseri umani, che siamo in pratica un insieme di molecole che vivono, riceviamo energia dall'esterno. Vorrei capire, quindi questo libro, per chi lo leggerà, avrà l'opportunità di poter capire ogni anno dove trascorrere il compleanno o è la spiegazione che tu dai di questa storia? La spiegazione di come io costruisco, attraverso algoritmi precisi, questo calcolo che ovviamente va personalizzato in ogni persona in base alla data di nascita, all'orario di nascita. E poi c'è un'altra parte importante del libro dove studio, in base alle distanze dei pianeti che circolano sopra la nostra testa periodicamente, anche delle indicazioni, e questo punto è importante, su che cosa aspettarci nei prossimi anni dal mondo. Perché, come sai, abbiamo vissuto quel periodo 2020-2021, veramente tragico, con una storia della pandemia, e che io avevo anticipato con diversi anni di anticipo. E quindi è anche interessante, in base a questa costruzione che avevo fatto a tempo fa, come sarà il mondo nei prossimi anni. E quindi lascio ai lettori proprio la curiosità di andare a leggere il libro. Diciamo subito che si intitola, ripetiamo, Compleando di rivoluzione, come l'astrologia può migliorarti la vita. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ovviamente noi ci vediamo a Sanremo perché non possiamo mancare i nostri appuntamenti. Certamente, l'appuntamento è importantissimo. Bene per la preparazione di Sanremo, in bocca al lupo, ci vediamo là. E quindi un modo di spiegare ancora meglio questa rivoluzione.